buona prima ragazzi siamo tornati con questo video ragazzi io mi scuso vivamente con tutti voi per l'assenza ma sto patendo le pene dell'inferno per quanto riguarda internet e quindi la possibilità di poter fare video e poter fare live sono nervosissimo non riesco neanche a parlare in questo momento vi chiedo scusa se non ho caricato tanti video non ho fatto live ma in questo momento guardate ho la merda proprio che mi sta uscendo dalle orecchie quindi sorvoliamo sorvoliamo cerco di registrarvi qualche video perché al momento pare che ho trovato una soluzione temporanea e vi volevo parlare ovviamente di one football ragazzi one football che è l'applicazione migliore per quanto riguarda calcio notizie sul calcio risultati sul calcio seguire la vostra squadra del cuore in ogni passo passo per passo in ogni competizione grazie a one football io a fine mese tra l'altro parteciperò a un torneo per dare il via a questo nuovo anno di fifa per inaugurare questo fifa 19 addirittura in germania ragazzi rimanete sintonizzati perché vi porterò tutto su instagram pure seguitemi su instagram che vi porterò tutto vi passo passo vi porterò con me in questa cosa che sono una figata mentre un torneo con altri youtuber da tutto il mondo che collaborano con one football quindi una cosa veramente super figa ovviamente non è un torneo competitivo perché sono una pippa di merda però nel senso è un torneo di content creators così possiamo dire quindi mi raccomando scaricatevi one football il link è in descrizione è gratis potete seguire tutta la vostra squadra tutte le ondizie tutte le cose quando c'è il calcio mercato potete seguire il calcio mercato e in più seguitemi pure su instagram vi porterò con me ragazzi in questa cosa incredibile scusate non riesco a parlare ma sono nervosissimo intanto qua mi hanno dato questa divisa per gli access io ragazzi in questi giorni purtroppo non avendo avuto internet non ho potuto spacchettare o meglio spacchettato un po dalla app del telefono insomma dalla companion app come si chiama ho trovato diversi giocatori ho giocato pochissimo perché ho giocato solamente il primo giorno praticamente e poi vi farò vedere intanto ci andiamo andiamoci a spacchettare qualcosa poi magari dopo facciamo qualche sbc in realtà non so neanche che fare in questo video ma volevo solamente sfruttare questa cosa questo access e portarvi in video dato che le live al momento non le posso fare quindi spacchettiamo un po qua poi ci facciamo qualche sbc e vediamo di trovare qualche giocatore interessante iniziamo da arkarius milik giocatori interessanti che io già ho trovato e sui quali devo andare a costruire la mia prima squadra poi magari vi porterò un video anche di quello nei prossimi giorni io qua mi devo ricordare come si fa a scartare la gente ok sì ho fatto più o meno cerco di tenere sempre tutti proprio per il fatto che dobbiamo fare ancora le sbc quindi volevo portarvi un video sulle division rivals ma in questo momento sto connesso tipo con un modemmino di merda e ho il ping altissimo quindi non mi pare non mi pare proprio il caso in questo momento di andare a giocare però attenzione troviamo chris smalling ragazzi che va bene che ha 68 di velocità e 61 di accelerazione però comunque è sempre smalling cioè smalling non si infama eppure boot e boots che vabbè però lo buttiamo via perché non ci interessa ok quindi andiamo con un altro pacchetto non lo so spero di trovare qualcosa ragazzi vorrei trovare la mia prima icona ma mi rendo cotto attenzione questo 86 più ragazzi oddio questo 86 più che si è fatto il glitch sotto oddio che cazzo è questo difensore centrale piquet oh piquet una merda 55 velocità fa schifo però per l'sbc in futuro per l'sbc delle icone sbc delle cose buono intanto storia e casi storia e caso workout nei primissimi pacchetti buono buono come il pane vi dicevo vorrei la mia prima icona perché sono nei pacchetti praticamente tutte le icone prime ora vediamo quanto costa pica in questo momento 50 mila al massimo ok cioè già non costa niente va bene va bene quindi a maggior ragione non teniamo per l'sbc comunque ho capito come si fa a capire se è a 86 più praticamente fa un bug una cosa sotto il simbolo di esports sotto compare tipo grigio una cosa strana faccio più prima a farvelo vedere trovandone un altro che a spiegarvelo a parole finora ho giocato con i giocatori in prestito mi faccio veramente schifo cioè nel senso io sono sempre stato contro a gente che gioca con giocatori in prestito perché mi fa ruote il culo io vado a comprare un giocatore se ce l'ha in prestito e c'è la stessa cosa no va bene e quindi devo evitare devo evitare voglio evitare anche io voglio costruire la mia mia squadra con i contro cazzi comunque già piqué nei primi pacchetti non è male vi ripeto se riusciamo a trovare magari un bel top player pure magari 90 più pure magari un icona o magari etena sardif di certo non lo gettiamo alle ortiche mi voglio andare a fare qualche sfida per avere qualche pacchetto più succulento dato potrei farmi dei draft ma in questo momento con sta connessione vi ripeto non vado a giocare perché creerei disagio anche al mio avversario a me me lo terculo quando oh Wayne Uruni il bambino d'Inghilterra a me me lo terculo quando becco gli avversari che laggono che mi fanno la capura a me perché dovrei fare la stessa cosa quindi lasciamo stare per il momento e facciamo sbc facciamo pacchetti insomma facciamo un po' di tutto cerchiamo di accumulare crediti per farci una squadra decente niente non ci riesce l'altro 86 vabbè che non è facile perché oh però questa è lavagna occhio tedesco goresca no portiere chi è bauman probabilmente si bauman bauman 83 ma no se mi dava un goresca 83 l'avrei preso proprio benissimo proprio tutta la vita l'avrei preso vabbè questi li teniamo tutti sto parlando da 6 minuti di interrottamento nella speranza di trovare un altro giocatore interessante ma a quanto pare qua è lavagna d'accevole un giocatore bello uh ti prego atti chi è oh benzema va bene va bene va bene carini benzema 84 quindi avevamo la 4,7 4,7 per cento di possibilità ragazzi scusate non riesco a parlare ma sono veramente mi sono appena finito di incazzarmi come dire quindi sono ancora i postumi nell'incazzatura ma una cosa scandalosa veramente scandalosa ragazzi in italia siamo vi dico solo che in italia siamo 10 anni indietro per quanto riguarda qualsiasi cosa praticamente quindi soprattutto per quanto riguarda roba di web internet e cose del genere uh attenzione ragazzi allora c'è un manzukic doppione che inviamo alla lista immediatamente ok ma c'è uscito un player pick dal pacchetto e questa cosa è molto interessante sicuramente non sarà il top perché appunto da 75 80 però però per esempio possiamo prendere questo grey qua che io non ho e quindi ce lo possiamo prendere e direi che lo prendiamo vai ingaggiamo grey ingaggiamo sembra che sta a fare la carriera allenatore ragazzi il player pick dal pacchetto da 75 so che si poteva trovare ma non l'avevo mai trovato quindi una nuova cosa mi piace mi piace certo magari se fosse stato un po' più un po' migliore magari ecco però allora vediamo un po' che cosa potremmo fare nationalità missa questo ci dà il player pick si sarebbe interessante da vedere però sono tutti 80 massimo di valutazione che vi dico non è che mi interessa così tanto queste qua sono sfide iniziali e che ci dà un pacchetto oro premium un po' una cagata questo qua ci dà un mega pacchetto raro quindi nationalità missa penso che andiamo a vedere un attimo che cosa ci danno questo ci dà un giocatore oro premium questo è un pacchetto oro premium un pacchetto mega un pacchetto giocatori oro prime penso questo sia infatti come sono come l'anno scorso ora il problema è che mi devo ricordare come se facevano l'anno scorso questo non sarà facile però va bene nazionalità esattamente 4 giocatori stessa nazione massimo 3 giocatori rari minimo 4 ok si può fare si può fare nazionalità esattamente 4 quindi dobbiamo mettere 3 giocatori per ogni nazione i campionati possono essere anche lo stesso quindi immagino no quindi se io vado a mettere premier league dovrei farlo easy ok questa qui l'ho fatta abbastanza easy ragazzi pacchetto giocatori oro premium mi dispiace un po' dar via tipo giocatori tipo santi casorla e questo qui che core però va bene sperando di trovare ovviamente gente più più interessante andiamo con l'altra nazionalità esattamente 6 quindi già qua iniziamo po' in realtà questa me la ricordo come si faceva credo posso usare anche gli argento che però non ho perché non ho aperto pacchetti argento ok però questa ti dà solo un pacchetto oro premium aspetta aspetta lasciamocela per ultima andiamo a fare prima roba dove ti dà più pacchetti interessanti i giocatori ce l'ho comunque dai ci metto un danese ci metto un argentino ci metto un irlandese così dovrebbero andare bene no giocatori rari minimo 5 ecco questo potrebbe essere un problema ci mettiamo un francese un tedesco un inglese ok fatta ragazzi è abbastanza easy questo qua comunque i giocatori nel club ce l'ho accumulati quindi va bene orgoglio nazionale ok 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 giocatori rari minimo 7 questo qua abbiamo fatto lo stesso discorso di prima giocatori rari minimo 7 però il problema è che dobbiamo trovare un altro campionato un campionato altrettanto multietnico che spero possa essere alla serie A per esempio perfetto ragazzi l'abbiamo fatto sembrava più difficile ecco verdi costa un boato no vabbè neanche troppo dai 1700 1700 li posso spendere potrei trovarlo a meno ma non ci ho sbatti quindi queste qua alla fine erano abbastanza facili queste sfide qui ragazzi vi devo dire la verità cioè mo andiamo a fare l'ultima che era proprio la più facile che non l'ho lasciata apposta perché dava un pacchetto abbastanza agghiacciante sperando che ovviamente ne sia valsa la pena io qua devo andare a comprare però ragazzi non posso non voglio perdere tempo cioè potrei ma non voglio potrei ma non voglio ok questo l'abbiamo fatto pacchetto mega ragazzi io qui spero di trovare vivamente qualcosa di interessante perché altrimenti è un problema no qua ci possono andare l'argento ok non avevo sbagliato nulla ok ragazzi ho fatto anche questa ci ho messo un po' ho dovuto spendere penso 3000 crediti per comprare un giocatore però abbiamo fatto dei bei pacchetti molto molto interessanti in assinità miste ragazzi io queste qui le ho fatte totalmente in base ai giocatori che io avevo nel campionato nel club scusatemi quindi mi sono basato su quelli vi consiglio di fare lo stesso andate a vedere sì magari su footbine però con moderazione perché quei giocatori che vedete lì si alzano sempre di prezzo proprio perché tutti fanno la stessa cosa di andare a guardare là ok quindi vi consiglio comunque di arrivarsi un po' per conto vostro abbiamo questi 5 pacchetti che brutti non mi sembrano andiamoci da aprire vediamo se riusciamo a trovare qualcosa poi magari andiamo a aprire qualche altro pacchetto da 7500 nel caso fossi deluso dal contenuto di questi pacchetti per esempio Ugo Mallo non mi sembra assolutamente un giocatore interessante da avere nel proprio club però ok ok iniziamo con i pacchetti belli ragazzi sono questi pacchetti quanto quanto è il valore di questi pacchetti tutti insieme allora 35 55 90 115 mila 160 mila crediti se non ho sbagliato i calcoli di pacchetti gratis il quando ancora fifa ufficialmente deve uscire nominamento se mi dai qualcosa magari ok non è non è 86 più però magari una bandierina ce la dai niente non bandierina manco per casso chi è questo chi è deron ragazzi 76 di overall era un pacchetto da 25 mila questi per bacco non mi è sembrato un pacchetto sincero quantito più io ragazzi ma quanti giocatori sto accumulando nel mio club non va bene tutto ciò non va bene allora io mi apro questo e poi ci apriamo qualche pacchetto da 7500 prima di andare a aprire gli ultimi due perché mi voglio tenere un po' l'acquolina in bocca ragazzi e vedere che non è 86 più non c'è non c'è la luck in questo però è la lavagna che potrebbe essere interessante tipo Nainggolan Nainggolan ragazzi Russia Nainggolan e questo va dritto nella nostra squadra dritto nella nostra squadra che sto elaborando una sorta di ibride ragazzi che devo ancora elaborare ma questo ragazzi e vabbè pure Barzali ragazzi death pack death pack is insane no vabbè ragazzi quanto costa Nainggolan 80 mila crediti costa più di un sacco costa più di pichè che era walk out ragazzi Nainggolan è una bestia minchia e Barzali quanto costa Barzaglione vabbè pure 6k ragazzi questo pacchetto è incredibile ragazzi pacchetto incredibile vabbè oggi me lo sento che trovo unico no ho sbagliato tieni tutto tieni tutto tieni tutto tieni tutto questo è tutto buono sto pacchetto eh ragazzi purtroppo con i tasti ancora mi inceppo allora usciamo dal negozio rientriamo nel negozio giocatori oro prime 12 giocatori di cui sei rari mi puoi dare qualcosa per favore dai vabbè che già Nainggolan ragazzi ci ripaga praticamente con gli interessi tutto il gruppone di sfide però un oro prime è un pacchetto bello potente insomma vediamo un po' niente non è non è 86 più vediamo se lavagna almeno niente ragazzi neanche la lavagna boateng che ho appena trovato tra l'altro il pacchetto da 7500 dai ma come si fa ma dai ma dai cioè ma dai mascherano pulisic ragazzi un pacchetto abbastanza agghiacciante eh abbastanza agghiacciante questi doppioni li scarto tutti magari c'è qualcuno che costava tanto per qualche sbc ma non ho sbatti di andare a controllare sinceramente quindi boh mega pacchetto raro dai un mega pacchetto 30 oggetti ce ne sarà uno 86 più ti prego niente ragazzi non c'è l'86 più ma no ma almeno c'è la lavagna è un ifo oh chi è questo? stracoscia ragazzi stracoscia if micchia grande stracoscia ragazzi stracoscia if buonissimo buono ragazzi buono 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 balodelli stracoscia vediamo se c'è qualcuno nei doppioni tre doppioni ci sono in questo pacchetto vediamo un po' per indoppione per indoppione stracoscia balodelli eh eh dai devo dire che comunque è un angolan che costa un sacco non pensavo più stracoscia che costa esattamente non costerà tanto eh 10.000 crediti questi sono proprio scemi eh lo teniamo per qualche sbc stracoscia ragazzi non vendogli if a 10.000 crediti in questo momento sinceramente queste sbc ne sono false la pena come vi avevo detto ragazzi tanta roba ragazzi concludiamo con questo bellissimo alan qua che mi proprio mi dà un'emozione incredibile apriamoci l'ultimo pacchetto non vi faccio ancora vedere tutti tutti i giocatori che ho trovato perché tanto comunque non penso di vendere nessuno al momento quindi ve li farò vedere però vi darei uno spoiler della squadra che mi voglio fare se ve li facessi vedere quindi sospendiamo ve li farò vedere in un prossimo video non vi preoccupate io vi ringrazio per aver visto questo di video ragazzi vi chiedo ancora scusa se purtroppo non ci sono stati tanti video live ma al momento ho trovato questa soluzione provvisoria che almeno per i video riesco a tamponare pare pare per le live ci ragioneremo spero a più presto possibile ragazzi vi ringrazio per tutto il supporto veramente sia qui che su twitch grazie mille l'ultimo video è andato benissimo noi si becchiamo presto ragazzi e niente vi do un prossimo video ciao 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 ciao